Per fare questo gioco abbiamo bisogno di 5 carte che vanno dall'asso al 5 di picche Quindi asso, 2, 3, 4 e 5 Vado a prendere l'asso e lo vado a mettere così sul tavolo Sopra l'asso il 2, sopra il 3, il 4 e per finire il 5 Ok, molto chiaramente queste 5 carte Basta un attimo che le carte si invertono Quindi l'asso arriva in cima Seguito dal 2 Seguito dal 3 Seguito dal 4 e poi ci sarà il 5 No, perché qui c'è l'asso Qui c'è il 2 Qui c'è il 3 4 e 5 Sì, vi ho un po' confuso con tutti questi scambi Guardate, molto chiaramente Asso di picche Sopra ci vado a mettere il 2 Sopra ci vado a mettere il 3 Sopra il 4 E lascio sul tavolo il 5 Ok? Basta un attimo che ancora una volta le carte si invertono Qua avremo l'asso Qui il 2 Qui il 3 Qui il 4 E qui il 5 Questa è la dislexia Di John Paolo Sopra ci vado a mettere il 3 Sopra ci vado a mettere il 3 Sopra ci vado a mettere il 3